C'è chi sta riscontrando problemi riguardo alle voci su God of War Ragnarok che non si sentono quindi in questo caso è proprio un problema di driver sulla scheda grafica e problemi riguardo ai driver audio sul tuo computer quindi in questo caso ho notato che nel menu non mi ha fatto proprio inserire l'output del mio dispositivo sul gioco quindi ho fatto tutto attraverso Windows 11 quindi in questo caso andiamo un attimo su impostazioni audio andiamo un attimo su altre impostazioni audio ovviamente questo è l'altoparlante che uso direttamente su God of War Ragnarok per sentire così le voci ci clicco un attimo sopra avanzate ed eccolo qua inserisco così 24 bit l'ultimo vediamo se l'ultimo qua qualità professionale proviamo e testiamo e funziona perfettamente livelli alziamo il livello e basta se invece a te è disabilitato abilita così il dispositivo e provalo se funziona oppure se stai usando un altro altoparlante tipo il Realtek Audio per quelli che tengono questo Realtek e la stessa cosa puoi mettere in posta come dispositivo predefinito ci clicchi sopra avanzate ed eccolo qua metti l'ultimo qualità professionale e fai ok una volta fatto vai direttamente su risoluzioni problemi impostazioni soluzioni problemi altri strumenti ci clicchiamo sopra ed ecco qua l'audio ci fa capire qual è il nostro problema audio e facciamo esegui puoi risolvere anche il tuo problema riguardo al driver audio attraverso il DirectX quindi vai a scrivere scopra DirectX web install e DirectX questo è proprio per il DirectX 9, 10, 11 per l'audio tutti questi problemi li puoi risolvere attraverso web install e DirectX scarichiamo così il software e lo installiamo accettiamo il contratto vai avanti non installate questo fai avanti e installi così il driver ora tornando a noi su il problema riguardo alla richiesta supporto abbiamo il tuo consenso di eseguire la diagnostica automatica facciamo sì hai sentito il suono bip io l'ho sentito quindi l'audio funziona bene facciamo no ovviamente controlla anche che i cavi siano connessi bene al tuo computer contro l'autobot e l'altoparlante seguo strumento di distruzione dei problemi audio che sarebbe questo qua verificare che tutti gli aggiornamenti windows siano installati quindi andiamo su windows update verifica disponibilità aggiornamenti verifichiamo così gli aggiornamenti da fare su windows update vediamo se dobbiamo fare qualcosa cronologia degli aggiornamenti ho installato l'ultimo aggiornamento il 15 di settembre quindi non ho nessun aggiornamento da fare prova anche a usare il programma nvidia app l'applicazione che ti permette di scaricare i driver sulla tua scheda grafica nvidia oppure se vai a scrivere su internet amd adrenalin edition è un software è un software proprio amd adrenalin edition è un software come questo qua di nvidia per quelli che usano una scheda grafica amd è la stessa cosa scarichi installi il software vai su driver cerchi così aggiornamenti da fare e installi così gli ultimi driver rilasciati se non dovesse funzionare tasto destro su start gestione dispositivi ed eccoli qua i nostri input e output audio altoparlanti realtà e caso se c'è un triangolino giallo tasto destro sopra aggiorna driver cerchi il driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibile nel computer metti il primo fai avanti e installi così il driver per il tuo dispositivo ora non ci resta che entrare direttamente su god of war chiudo un attimo le schede qua e avvio god of war come puoi vedere l'audio del gioco di personaggi funziona quindi le voci si avvicinano quindi parlano non hanno problemi con l'audio quindi in questo caso grazie a tutti per questa visione se hai problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao